... Gli agenti, le agenzie ci sono! Adesso non è loro, arriva un'onore adesso, del Pai! Oggi tutti noi operatori del settore, agenzie viaggi, tour operator, conducenti di autobus perché vogliamo farci sentire, vogliamo chiedere aiuto al governo perché da soli non ce la possiamo fare, noi vogliamo tornare a lavorare però abbiamo bisogno anche del sostegno dello Stato.